Al prossimo 6 novembre sarà attivo anche all'interno della ASL Toscana Sud-Est lo sportello per le disposizioni anticipate di trattamento. Il cittadino che può rivolgersi a questo sportello deve essere un cittadino maggiorenne, quindi avere più di 18 anni, capace e intente di volere e che sta bene. Quindi va a riguardare in realtà l'accesso a questo sportello di persone che stanno bene, che decidono di prendere una decisione che riguarderà il futuro di una possibile patologia. Le DAT, meglio conosciute come biotestamento o testamento biologico, sono appunto le disposizioni che permettono ad ognuno di noi di esprimere il consenso e il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti in previsione di un'eventuale futura incapacità di poterlo fare. La legge consente infatti anche di poter nominare un proprio fiduciario. Quindi anche per evitare un possibile accanimento terapeutico che sappiamo perfettamente può accadere se non ci sono situazioni decisionali prese dal paziente. Però quello che voglio far capire è che questo sportello serve all'autodeterminazione del cittadino. Attivo suo appuntamento ogni primo e terzo mercoledì di ogni mese, nello sportello sarà fornito un importante supporto anche grazie alla presenza dei medici della medicina palliativa. Pensiamo sia utile dare ogni possibilità alle persone che intendono farlo di avere il massimo delle informazioni possibili in un momento in cui sarà possibile anche volendo non solo avere informazioni ma anche compilare proprio le dati.